Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Stilograficamente dove la mente si rivolge al bello. Oggi prendiamo in esame questa bellissima Namiki Vanishing Point Hunter Green uscita in 1994. Ringrazio il mio amico Domenico 98 per avermela prestata, bellissima penna. Vediamo le caratteristiche, un po' di storia innanzitutto perché avrete notato che per le serie in cui abbiamo un cappuccio, un pennino a scomparsa della Pilot c'è un po' di confusione, non si sa se chiamarle Vanishing Point o cappless. Facciamo un po' di chiarezza. La penna nasce, nel 1960 viene introdotta nel mercato da Pilot International la prima cappless, si chiama così, ed è fatta in alluminio. Nel 1973 il nome diventa Namiki Vanishing Point, quindi all'inizio era introdotta come Namiki Capless, poi è diventata Namiki Vanishing Point. Soltanto nel 1999 Pilot ritirerà poi il nome Namiki da tutta la linea delle Vanishing Point, lasciando il nome Namiki soltanto esclusivamente per la Raden, che è un modello molto bello, multicolore, con delle strisce che sembrano dei raggi appunto da cui il nome penso Raden. Da qui in poi, dal 1999 in avanti, le penne si chiameranno Pilot Vanishing Point o Pilot Capless. Nel 2005 nascerà poi la linea Decimo e nel 2006 la Fermo. Per cui, per quanto riguarda la Decimo e la Fermo, vi rimando a un video che ho girato con la collaborazione di Domenico Pescosolido, che le possiede entrambe. Per quanto riguarda me, ho recensito questa Pilot Vanishing Point o Capless Carbonesque, per cui vi rimando anche alla mia altra recensione. Vediamo come si comporta, quindi basta storia, vediamo come si comporta questa Namiki Vanishing Point Hunter Green. Allora, la caratteristica di questo pennino, oltre al fatto di essere medio, qui abbiamo, non ho parlato delle parti della penna, rimedio subito. Qui abbiamo un pennino medio di 14 carati, quindi la differenza tra questa Namiki Vanishing Point e la mia Capless Carbonesque sta anche nella caratura del pennino. E viene data con in dotazione un converter di tipo aerometrico a pressione che non vado a premere. Non sto riuscendo a infilarlo, non so perché. Ah, ecco, perché sono un ciuccio. Anche qui, come nella Pilot Capless, c'è una guida per infilare il convertitore, il gruppo di scrittura, diciamo. Le parti della penna sfaccettata con... non so, non ho idea di quante siano le faccette, ma sono veramente tante. Una è fatta in plastica, principalmente con una parte... loro dicono di essere fatta in acciaio e in plastica. In realtà, secondo me, la clip non è proprio acciaio e sembra essere un materiale plastico o alluminio. Per quanto concerne la prova di scrittura, andiamo avanti. Questo è un pennino medium 14 carati oro 585. Sta scrivendo con un private reserve sharewoodgreen. E vediamo la continuità di scrittura. qui ho variato l'inclinazione, infatti si fa sentire. O forse sto finendo anche l'inchiostro, perché questa penna problemi non ne ha né di alimentazione, fame di inchiostro, tratto. Per me è sostanzialmente, infatti si vede perfetta. Questa è la prova migliore. Poi, vediamo come si comporta per quanto concerne la variazione di tratto. Allora, leggero, pesante. Non riesco a variare il tratto più di tanto. Cioè, non è un pennino flessibile in nessun modo. È un pennino piuttosto rigido, anche se non vi dà una brutta sensazione di scrittura in termini di feedback. Infatti, la penna, già lo so perché l'ho provata lungamente, però faccio anche la prova delle direzioni. Non questo non ci piove. Flusso, ben tarato, non abbondante, non troppo scarso. Vediamo gli aspetti positivi di questa penna. Allora, l'impugnatura rispetto alla cappless, facciamo un microconfronto tra le due. L'impugnatura non è obbligata, mentre qui la rientranza, diciamo, della clip l'avete solo in questo punto. Qui la clip non ha la bombatura che ha la cappless, è piuttosto uniforme nella sua forma, appunto, ed è un'impugnatura forse meno obbligata, ma in realtà anche qui sulla cappless non è che ci sia tanto obbligo. La potete impugnare all'altezza che volete. Chiaramente qui magari avrete uno spessore più affilato che avete anche qui, vabbè, rispetto alla guida sulla clip. Però, insomma, un materiale, c'è un minimo di sfaccettatura qui che la rende forse un po' più impugnabile anche in punta. Sfaccettata, quindi non correte il rischio che rotoli più di tanto, tanto comunque c'è la clip in entrambi i modelli. Pennina scomparsa, come avrete visto anche nel video della cappless carbonesque, c'è un piccolo sportellino che si chiude a rientrare del pennino per proteggerlo. E diciamo che l'aspetto positivo, diciamo, di questa penna è l'estrema praticità. È molto portatile, ad alcuni può piacere la penna leggera, a me personalmente sembra quasi un giocattolino, anche se non lo è affatto. Questa sul mercato oscilla tra i 200, 250, a volte anche 300 euro, in particolare la livrea Hunter Green che è uscita nell'ottobre del 1994 insieme a burgundi, blu e black come colori. Però comunque, diciamo, è una penna piuttosto robusta, anche se questa è realizzata in materiale plastico, a differenza della carbonesca che è tutta in materiale metallico. Il pennino è protetto, si asciuga poco, quindi non ho mai avuto problemi di false partenze, l'ho tenuta in rodaggio per un bel po', come in affidamento per un bel po', grazie Domenico per la pazienza che hai mostrato. La scrittura è impeccabile, scrive piuttosto bene, aspetti negativi. Come dicevo prima, per me è troppo leggera per essere una stilografica, preferisco stilografiche un po' più decise in termini di peso e vediamo subito quanto pesa a questo punto visto che ci torniamo due volte. Ok, allora, questa qui pesa sui 18,36, 37 quello che è, la carbonesca invece andiamo sui 32, quindi come potete vedere c'è una considerevole differenza. Non so perché sta bilancio ha iniziato a fare i capricci, appena lo accendo sono 0 e il peso e sui 18 grammi. Se vado qui sulla carbonesca da 18 passo a 31,6, quindi una considerevole differenza tra le due. Dicevo, troppo leggera per me, tra gli aspetti negativi, poco rintracciabile sul mercato, io non riesco a darvi un link facilmente, forse qualcosina c'è su ebay, ultimamente l'avevo vista a 2,60 o qualcosa del genere e comunque la trovate solo sul mercato dell'usato perché non è più in vendita. Clip secondo me è un po' troppo deformabile, nel senso che è molto rigida rispetto alla sua gemella che permette un gioco migliore, anche perché è un tutt'uno con tutto il resto della struttura, quindi è veramente eccessivamente rigida e mi sa che è in un materiale che se non è acciaio si deforma facilmente. Scritta Pilot qui, due anellini come li vediamo nella carbonesca, anche se molto più sottili, le dimensioni della penna sono più ridotte rispetto a quelle di una carbonesca. Se dovessi metterla a paragone, vediamo un po' con altre penne. Beh, io la posso fare a conare in questo momento con una Lami 2000, ecco qui, non ho altro che una Lami 2000 nelle vicinanze con cui paragonarvela, forse anche la Viva 1937, la Twiz Bivac 700R. Insomma, queste sono le penne che mi trovo nei pressi e che vi posso paragonare. Comunque, vediamo qual è la votazione finale, scrivo tutto come sempre e poi commentiamo. Allora, secondo me il flusso è veramente ben tarato, la livrea è bellissima, ha un bel colore verde, la clip prende un voto un po' più basso, 7 su 10 perché non mi ha convinto del tutto, il feedback è 10 su 10, distribuzione del peso 10 su 10, impugnabilità e manutenibilità 10 su 10. Per me è un 9 e mezzo tendente al 10 come voto generale. Allora, so che domenico 98 questa qui l'ha messa in vendita, dovrebbe aver trovato già accordi, comunque se volete fare un'offerta per questa penna io l'avrei volentieri comprata, c'è una scritta Japan qui che non avevo visto, l'avrei volentieri comprata io se non fosse stato per la sua estrema leggerezza. Però per alcune persone questo è un valore aggiunto, magari fate sessioni di scrittura molto lunghe, vi si stanca il polso anche per come impugnate la penna, è una penna più leggera e comunque pratica al trasporto, vi torna utile. Se dovesse interessarvi fatemelo sapere che posso offrirmi come tramite tra me e il mio amico, che comunque ringrazio tantissimo per avermela affidata e un piacere vedere un altro pezzo di storia della casa Pilot. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito a mettere like se vi è piaciuto il video o a iscrivervi al canale se volete ricevere gli ultimi aggiornamenti e anche come forma di supporto al mio lavoro e vi do appuntamento al prossimo video stilograficamente parlando. Ciao a tutti!